ciao a tutti e bentornati su per crisi 2009 perché ha visto montaggio montaggio giostre a carpi abbiamo le giostre già montate qui abbiamo il camion dell'autoscontro per i grandi anche lì questo qua porterà questa cassa vedete mescare la terra porta poi c'estino un paio di cose davanti ovviamente oggi sono gli autoscontri però volete visto secondo la storia arriva dall'altra parte vederla dove voleva arrivare che vede un pochino lì vediamo gli autoscontri credo anche di giostre diverse sì mi fanno di giostre verso questo qua e salta salta niente questo qua per i piccoli tutto gli altro sconto per i piccoli il primo anno che vengono c'è primo anno da venite tutta stessa grazie al primo anno adesso ci stiamo andando e abbiamo gli autoscontro di 7 poi ci hanno dato sconto per i piccoli vicini aiuto scontri qui abbiamo per i piccoli mini autoscontri che l'ho provato ieri ma hanno abbastanza veloce e guardiamo gli autoscontri per i più grandi ora camminiamo per lì qua ma non è che in alto quindi non so qua come si fa a salire ecco ecco qui stavo subito da sull'altro scontri abbiamo se giustino di qua di tirare a caccio il primo anno abbiamo bengi jumping primo anno poi come ogni anno abbiamo i trampolini normali che vi ho fatto vedere il camion che è quello lì e che altro abbiamo prima volta abbiamo qui le corse pazze adesso andiamo a vedere meglio ecco saranno sapete le piccole macchine per i bambini che girano qui intorno e il gran ritorno di una giostra che a me mi piace tanto colci in culo per i grandi che adesso stiamo andando a vedere poi da già da nuova allontananza adesso ci avviciniamo un pochino di più poi da vedere in giro un po' di carristi e dei carristi perchè sono assiccato con i carri e di giostrai perchè come si diceva e e quindi abbiamo la cassa e la propria caccia in culo poi trasporto dei seggiolini dei trampolini e tutto questa qui è la sagra di giostra e di carpi andate a vedere il video del montaggio che si chiama montaggio giostra a carpi 2019 e ci vediamo in un nuovo video ciao ragazzi